Io vado a lavare i piatti. Sì. Magari aiutarmi. Come no? Solo più tardi, adesso me ne sto andando un po' in giro. Gary, non li voglio fare più tardi, alzati e andiamo dai dieci minuti. No, no, amore, sono esausto. Adesso mi voglio solo rilassare per un pochino, starmene steso qui mentre digerisco e cercare di godermi la quiete di casa mia. E tagliele, tagliele, tagliele! Questo voglio. Sì, guarda, i piatti laviamoli domani. Gary, odio svegliarmi e trovare la cucina sporca. Ma che sarà mai? È una tragedia, chiaro, almeno per me. Ho passato mezza giornata a pulire tutta casa e a cucinare la cena. Mi sono ammazzata e ora potresti farti uscire un grazie e aiutarmi a lavare i piatti. Bene, laviamoli e facciamola finita. No, Vanti, sai che c'è? No, non è questo quello che voglio. Se hai appena detto che vuoi che ti aiuti a lavare i piatti. Io voglio che tu voglia lavare i piatti. Perché dovrei volere lavare i piatti? Perché? Ecco, questa è la dimostrazione. Io mica lo so se ti seguo. Aspetta, mi vuoi dire che ti sei arrabbiata perché non ho lo sfrenato desiderio di lavare i piatti? No, mi sono arrabbiata perché non hai lo sfrenato desiderio di offrirti di lavare i piatti. L'ho appena fatto! Perché te l'ho chiesto! Attenta, Brucco, non fare la matta adesso. Non darmi della matta, sai? Io non sono matta. Non ti ho detto matta. Ci sento, sì. Non ti ho detto matta, non l'ho detto. Ho detto che fai la matta. Sai che c'è, Gary? Oggi ti ho chiesto solo una cosa, una semplicissima cosa, di portarmi dodici limoni e tu me ne hai contati tre. Oh, Dio santo, avessi saputo che poi tu mi avresti dato il tormento, avrei comprato ventiquattro limoni. Che dico, cento limoni? Sai che avrei fatto? A ognuno seduto a quel maledetto tavolo, avrei comprato la sua bella pianta di limoni. Giuro, eh? Ma se è da mezz'ora che ne parli. Dico solo che se è carino che tu faccia quello che ti chiedo, sarebbe ancora più carino se lo facessi senza che io debba chiedertelo. Mi sembra che stamattina l'ho fatta una cosina, senza che tu abbia dovuto chiedermelo. Gary, andiamo. Eh dai, sono seria. No, io sono seria. Anch'io. E non sai quanto. E dai, lo sapevi che oggi avrei lavorato e preparato la cena. E non ti ha sfiorato il pensiero? Non ti sei detto... Io quasi quasi porto a Brooke dei fiori. Tu hai detto al nostro primo appuntamento che non ti piacciono i fiori, che sono soldi buttati. Le ragazze adorano i fiori, Gary. Tu hai detto che non ti piacciono i fiori. Avrei dovuto capire che adori i fiori? Non è per i... Tu non... Tu non capisci, tu non capisci, Gary, ok? Non è per i limoni, non è per i fiori, non è per i piatti. E per... Quante volte ti avrò buttato lì di andare a vedere il balletto? Lo sai che ho l'allergia? Brooke, vieni qui. No. Adesso parliamo del balletto. Io odio profondamente il balletto. Quattro sfigati in calza maglia che zompettano per tre ore. Tutte le volte me lo sogno di notte. Loro ballano, io sudo in platea. Un incubo, ti giuro, passo il tempo a chiedermi chissà quando finisce questo cacchio di balletto. Il punto non è se ami o no il balletto, Gary. Il punto è che la persona che ama il balletto e tu ci vuoi passare il tuo tempo con quella persona. Non quando va al balletto. Ok, basta con il balletto, basta balletto. Non andiamo da nessuna parte insieme. Siamo appena andati a Ann Arbor insieme. A Ann Arbor? A vedere Michigan-Notre-Dame di football? Tu credi che orde di ragazzini ululanti e folletti che fanno i salti in banca e mi piacciono siano adatti a me? Non penso, ma io l'ho fatto per te e tu invece che fai per me? Io sto su quell'autobus tutti i santi giorni per te! Come no, se... Io mi spacco la schiena per essere il migliore di questa città in modo da guadagnare abbastanza per tutti e due così forse un giorno non dovrai più lavorare! Io voglio lavorare! Ti chiedo soltanto, Brooke, di mostrare un briciolo di comprensione quando ti chiedo venti minuti di relax quando ritorno e di non essere aggredito con domande e lagna di qualunque genere! Sono anche una lagna adesso! Una lagna continua! Ti lamenti sempre di me! Il bagno è un casino! Che cintura ti sei messo? Ehi, Gary, ti stai proprio inquartando! Ci fosse una volta che non faccio qualcosa che non va! Da adesso pretendo di essere lasciato in pace! Davvero? È questo che vuoi, Gary? È questo che vuoi? Sì! È questo che vuoi? Sì! Bene, dai, fai il cavolo che ti pare! Lascia i calzini in giro per casa! Vestiti come un barbone! Gioca col tuo stupido videogame! Me ne frego, con te ho chiuso! Cosa? Ho chiuso! Non me lo merito! Credo proprio di non meritarmelo! Io merito uno che tenga a me! Non passerà un altro solo secondo della mia vita con un insensibile coglione! Sei un coglione! Ciao!